Sì, sì, grazie Carmine per la linea. All'indomani della sconfitta di Verona in compagnia della Presidente Daniele Sebastiani che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Grazie Presidente. Grazie a voi. Allora, commentiamo intanto questi 90 minuti Pescara versione Babbo Natale, sintetizzando. Sì, sì, sono due partite fuori casa che abbiamo fatto tra Perugia e Verona dove se uno guarda il risultato senza vedere la partita pensa ad altro. Nella realtà Pescara in versione Babbo Natale perché soprattutto a Verona contro una squadra che ha giocato bene ma ti ha anche lasciato giocare. Abbiamo avuto, io non dico tanto, ma almeno 7-8 palle gol nitide, però se non le metti dentro poi è chiaro che rischi di prendere delle imbarcate. Il centrocampo sta facendo fatica, perché? Ma perché noi abbiamo, come tutti quanti dicono, un centrocampo forte, ma poi ci vogliono anche le regole nel centrocampo. Perché è chiaro che noi se dovessimo guardare il centrocampo nostro dal punto di vista tecnico credo che sia in assoluto il migliore. Però poi è chiaro che ci vuole gente che corre, ci vuole gente che copre, che mantiene la posizione e noi abbiamo forse in questo momento, nei tre di centrocampo, tre bravissimi giocatori ma che sono un pochettino anarchici. Quindi forse manca la presenza di un giocatore lì davanti che dia veramente un po' la regia e che serva anche da metronomo e serva anche da copertura in certe situazioni. I tifosi aspettano un attaccante di spessore. Qual è il punto di vista della società? Il punto di vista della società è sempre quello. I tifosi devono capire che le società di calcio hanno delle liste. Le liste sono composte da 18 giocatori, over. Sui giovani puoi prendere quello che vuoi perché non ci sono liste, però sugli over devi prendere 18 giocatori al massimo. Così come ce l'hanno gli altri problemi ce l'abbiamo noi. Se esce qualcuno entra qualcuno, se non esce nessuno non entra nessuno. Io credo che qualcosa sicuramente faremo perché ci sono giocatori che hanno trovato poco spazio e che magari anche loro stessi chiederanno di andare a giocare. In quel caso ci muoveremo perché con Giorgio e Luca stiamo ragionando sul da farsi. Anche perché le strade sono due, sarebbero due, se si vuole alimentare il sogno bisognerebbe fare un sacrificio nella sessione di mercato, altrimenti si può continuare così disputando un ottimo campionato comunque. Ma noi a parte di alimentare il sogno, non si tratta di alimentare un sogno, si tratta di giocarsi un campionato che sta dimostrando che te la puoi giocare. Quindi questa è la situazione. È chiaro che se noi avessimo una squadra che ha sofferto contro... Parlavo però dei primi due posti. Sì, sì, ma a prescindere dai primi due posti che sono lì a un punto e a quattro punti. Quindi non è cambiato assolutamente nulla. Il Livorno ha fermato in casa il Palermo, anzi rischiando di vincere. Quindi è un campionato livellato, molto livellato nelle prime 10-12 posizioni. E quindi è chiaro che chi sta là davanti se la deve giocare. Noi sicuramente non ci tiriamo indietro come non l'abbiamo mai fatto in questi anni. Però il trend degli ultimi due mesi fa riflettere, Presidente. Ma fa riflettere perché comunque sia, per come la vedo io, io non voglio entrare nell'aspetto tecnico, ma per come la vedo io bisogna avere il piano B, anche durante le partite. E questo è forse quello che è mancato nel pescare di queste ultime 7-8 partite. Perché poi è chiaro che più si va avanti, più la gente ti studia a prendere contromisure. E' chiaro che devi essere anche lì pronto a cambiare qualcosa quando ti stai giocando la partita. Faccio un nome a caso. Gianluca Lapadula rimane fantacalcio? Secondo me sì, perché non è un'operazione percorribile per una società di serie B come la nostra. Non credo che il Genoa, che ha un contratto così oneroso, sia disponibile a mettere tanti soldi sul contratto di Lapadula. Ci avete provato? No, non ci abbiamo provato perché onestamente è una domanda che... Non ce lo direbbe neanche. No, non ci abbiamo provato proprio. Ma non ci abbiamo provato proprio. E poi devo dire, se io fossi una squadra di serie A e avessi Lapadula pagato quei soldi, e con quegli stipendi cercherò, se devo dare un aiuto, cercherò di darne a una squadra di serie A per cercare di fargli fare qualche gol in serie A e magari avere la possibilità di rimetterlo sul mercato se proprio non voglio tenerlo. Perché parliamo di cifre importanti. Il Genoa ha pagato Lapadula 15 milioni, non 5 bruscolini. Grazie ancora al Presidente Sebastiani per la disponibilità. E tutto. La linea può tornare a te, Carmine.